Il controverso disegno di legge proposto dal governo britannico sulla regolamentazione del mercato interno dopo la fase transitoria prevista dalla Brexit è stato approvato in terza lettura dalla Camera dei Comuni. La norma, passata con 340 voti a favore e 256 contro, permette al Regno Unito di aggirare gli accordi stipulati con l'Unione Europea, in particolare quello che prevede di mantenere aperto il confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Nonostante le critiche sollevate a livello internazionale e le accuse di togliere credibilità al suo paese, il Premier Johnson non rinuncia a rivendicare il diritto all'ultima parola e giustifica la legge come una tutela nel caso Bruxelles facesse richieste irragionevoli. Dopo il voto ai Comuni, il disegno di legge passa alla Camera dei Lord, anche se non è ancora stato stabilito un calendario. Qui si prevede un'opposizione più netta, dato che in questo ramo del Parlamento i conservatori non hanno la maggioranza. Grazie!